L'arcobaleno si intravede, ma le alluvioni catastrofiche nel Middle Tennessee, provocate da piogge torrenziali mai viste in precedenza in questa zona del sud degli Stati Uniti, hanno causato sabato almeno 10 morti, tra cui due bambini e circa 40 dispersi. I filmati postati sui social media hanno mostrato danni ingentissimi soprattutto a Waverly, capoluogo della contea di Humphreys, con auto ribaltate, edifici scoperchiati e strade di Velte. Spostandosi leggermente ad est dello Stato, il paese di McEwen è stato travolto da 48 ore di piogge ininterrotte, con allagamenti e alluvioni, richiedendo il salvataggio di numerosi residenti dalle loro abitazioni e causando la chiusura di molte strade e l'interruzione di luce e gas. Mai vista tanta pioggia tutta in una volta, secondo il National Weather Service di Nashville, la capitale dello Stato. Il servizio di soccorso d'emergenza del Tennessee ha invitato chiunque a non uscire e a non entrare per nessun motivo nelle contee più colpite del maltempo.